La media evoluzione è dominata dall'Io. Negli stati alterati di coscienza, l'Io viene spesso messo da parte, dalle guide. L'ambizione è il nutrimento dell'Io ed il suo appetito. La prepotenza vorrebbe essere la dittatura dell'Io. La superbia, la presunzione, la vanagloria e simili sono la convinzione dell'Io di essere superiore. L'ira è l'accesa e intolleranza dell'Io. La paura è l'istinto di conservazione dell'Io. La crudeltà è la completa cecità dell'Io nei riguardi delle altre creature. La gelosia è il timore dell'Io di perdere un affetto di cui vorrebbe avere l'esclusiva. L'invidia è il rammarico dell'Io per non avere ciò che altri hanno. La lusinga è l'arma dell'Io per ottenere ciò che non ha da altri mezzi. Di contro è la sua debolezza. L'ignoranza è la presunta superiorità dell'Io. L'ipocrisia è l'ingannevole travestimento dell'Io. La menzogna è la difesa dell'Io.